Pronti per l'intervista? Non lo so Il motivo dell'intervista? Non lo so Nome? Si vuole Nome? Inferno Età? 18 Titolo di studio? Nessuno Signore diploma Stato civile? Studente Figli? Uno Uno Da quanto tempo vi conoscete? Un anno Mai state vicino di legale? Si Yes Cosa vuoi fare da grande? Nulla Nulla? Fine La vostra canzone preferita? Ce ne sono tante La nostra era un tre vice pagina Ah, la nostra era un tre vice pagina Il pregio dell'altro? Un bel ragazzo La pazzia Il difetto dell'altro? La pazzia La pazzia Mai rubato sul mercato? Si No Una canzone che ti ha ispirato qualcosa? Tante Che ti? Che ti ha ispirato qualcosa? Se avessi fatto quello che hai fatto, cosa avresti fatto? L'avrei fatto Un pochino Un pochino Un pochino Chi ne vuoi due più? Sbruffone Lui Lui Cazzone Lui Coglione Tutto lui Chi ti incontra ai due volitori? Cosa è felice? Sì, ma un rappresentante Ah, anche un rappresentante Anzottama Ad oggi quante cazzate hai fatto insieme? Troppe Tantissime Il più bello? Lui Il più brutto? Il più brutto? Lui Il più brutto? Lui Il più brutto? Lui Il più brutto? Lui Tre cose riguardate una donna Occhi Cule e tette Due costa Cule e viso Posizione preferita? È troppo di boic Ehm Ce le sono le mani Un ma non lo so io sono tutto bene perché non rimane non mi esprimo a riguardo quante donne hai avuto? zero, zero chi ce l'ha più lunga? io, un scrodolo? non lo so ti masturbi? no saluta bebe bebe ciao bebe, non mi masturba che faccia fai quando lo fai? io non lo faccio, sono omosessuale simone è il tuo orgasmo mio? e dopo ti voglio? vai rovano, vai rovano come combatti nell'eagulazione precoce? penso a trovare, penso alle vecchie fummi? no, no il tuo sogno nel cassetto? non lo so masturbarmi non ci vuole piacere il bar cosa mi fa ridere dell'altro? cosa mi fa ridere? dell'altro la faccia la sopazia? dice una cosa dell'altro che l'altro non ci viene dici che cosa è l'altro? che l'altro non ci viene beh sì sì, passa per la prossima chi paga il bar? ultima volta? no ultima volta dove? dopo 172 anni? io, io, io chi guida? per adesso non andiamo a sposare chi ha sempre l'ultimo barocco? lui androna imitami un personaggio famoso? non ce la faccio dire un errore della tua vita? essermi innamorato? non penso di aver fatto errori che comunque hanno cambiato la mia vita cosa hai perso con la popolarità? cosa ho perso? con la popolarità cosa ho perso con la popolarità? lui? io non sono popolare Gigi mi ha retta un po' daresti il tuo rene per l'altro? daresti? il tuo rene per l'altro? anche lui? sì, abbiamo avuto 70 salutano? cosa? salutano? i vele? ciao ciao Gigi, manda l'altra cara un saluto ai vostri fan? ciao ragazzi del tuo re il tuo re il tuo re il tuo re il tuo re Grazie.